Ehi, questa è una maledetta rapina, avete sentito? Il passeggiaro col capuccio, da dove arriva? Può dirci che aspetto a Vega? Tipo un supereroe. Ho detto va al tuo posto. E poi, che è successo? Giustizia. Sei testimoni. E nessuno sa descrivere l'assassino. L'assassino è armato e si sente minacciato. Non è un assassino. Non vogliono che scopriamo chi è. I sei testimoni hanno tutti deciso apparentemente di coprire l'assassino. Non andrò in prigione. Vi ha salvato la vita. Tre rapinatori in meno, il caso è chiuso. Lo hanno visto in faccia. E lo sai anche tu. Commissaria, c'è già un circo mediatico intorno a noi. Quel passaggero fa tutto quello che faremo noi se avessimo il coraggio di premere il grilletto. La stampa lo sta divinizzando, a tutti dalla sua parte. Uccidite chi è. O voi sei finirete in carcere. Vi diciamo la verità. Ma per favore proteggeteci. Ci stanno mentendo. Ti rendi conto di quello che significa? L'avete visto in faccia! Mani in alto! La verità non importa a nessuno. A nessuno. Tu lo faresti? Al posto loro proteggeresti l'assassino. Lucia di copia. L'avete visto che non si so sue è vero, sicuro l'assassino sicuro è morta. Ci sono corattato, Grazie a tutti